Ok, in realtà durante il dia di aria non c'è alcuna roba ma non c'è anche l'olio tropicale che si tratta durante i giorni ciò che non si può sperare durante il prossimo giorno che ha un disturbo per farlo delle aree del Caribe e il disturbo anche da una direzione west e lo si tratta la nostra regione tanto che si tratta di una roba buonera durante i giorni di noce per fare i giorni. Durante il dia di aria un avion di orcani si tratta del sistema e si determina come organizzare il sistema nel momento il modello non prosegue la calcolazione di che forma il sistema che si tratta di noi durante i giorni e anche i giorni. Però una cosa che abbiamo fatto nel servizio metodologico durante l'ultimo giorno, tanto il domingo che abbiamo riunito con i giorni per discutere diferentes scenarii. La cosa che abbiamo visto è che come scenari ed ad ora nell'informazione l'involvimento in quanto il sistema passa durante i giorni di noce e la che abbiamo concetto è invece quanto si tratta nel momento che il avion si tratta di riflessione. quindi molto probabilmente una volta che abbiamo un relato portato in ordine di ave e nocina e magari non per un sistema che non ha nessun nome che sia una depresione o una tormenta in caso che il sistema viene una tormenta, è raiare il nome di Bonnie quindi noi abbiamo sì che il sistema qui durante il prossimo giorno è una WAC, si è accruzione come una tormenta o è accruzione come una depresione quindi è incertidumbre e tendere il modello non è appoggiato e accade però ora che lo quali si non sta convincendo di ecco non sono tenendo in conto che la quantità di ave zero che non si può fare